Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la redazione del nuovo piano regolatore di Pordenone e oggi possiamo con soddisfazione dire che in 14 studi professionali hanno presentato domanda e ci troviamo come offerte quelle dei maggiori esperti in urbanistica a livello nazionale. Il livello di chi si è messo in gioco per il nostro bando è alto e questo è un bellissimo indicatore, ci fa capire che il bando aveva dei contenuti interessanti, delle sfide per chi lo affronterà in linea con quelli che volevamo essere i risultati che è stato compreso, che è stata considerata anche congrua la cifra messa in gara e che quindi avremo la possibilità di produrre uno strumento interessante in linea con i tempi e con le esigenze del nostro territorio per il nostro futuro. È un risultato, è un primo passo, adesso la Commissione lavorerà per attribuire e valutare questi lavori e comunque sappiamo che gli occhi su Pordenone sono stati posti da chi ha esperienza, ne ha e ha anche competenze elevate per far sì che il nostro territorio venga tutelato e valorizzato per il valore che ha.